Signore e signori, buonasera a tutti, questa sera su questo palcosceco in esclusiva per voi una storia, la mia storia, che potrebbe essere anche quella di ciascuno di voi. Io, basta il suono di un autentico jukebox con un vecchio disco a 45 g di mille per trasportarmi nel passato, dagli anni 50 agli anni 80, un frutto viaggio tra raccordi emozionanti e forti spiegazioni. Io, finava per ieri a ciocco, anni, favorevo sia a ciocco, pregato da un'epoca per agli spiegazioni i mali che rocchi e rocchi. Il rischio che lo ha fatto, mi ha fatto è il rischio che la voce si può potesse essere anche la vita della gara. Dopo il rischio che parlava di tutto il rischio, mi ha fatto essere anche un'epoca di mig exclude, le gloria di un uomo. A me, a me, a me, a me. A me, a me, a me, a me. A me, a me, a me. A me, a me, a me. A me, a me, a me, a me, a me, a me. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.